Buongiorno a tutti ragazzi, in questo nuovo video volevo farvi un tutorial su come vengono lette le carte aeronautiche relative agli avvicinamenti aeroportuali, quindi per quanto riguarda le parti della Star e degli avvicinamenti LS, così da vedere le varie sezioni che troviamo sulle carte aeronautiche per avere un quadro completo generale di ciò che andiamo a leggere su ogni carta, andiamo a vedere. Allora io per comodità ho aperto l'aeroporto di casa mia, cioè Fiumicino, perché lo conosco un po' di più e soprattutto perché conosco sicuramente meglio le procedure di avvicinamento, ho preso la mappa da Navigraph, quindi è aggiornata come vedete qui all'11 agosto di quest'anno, quindi andiamo a vedere bene quali sono le parti che ci interessano per quanto riguarda l'avvicinamento e come vengono lette determinati fattori sulla carta. Cominciamo dalla parte di sinistra, abbiamo le due frequenze, una è del LATIS, cioè Airport Terminal Information Service, semplicemente ci dà tutte le condizioni meteo, le piste in uso, il QNH, la temperatura, insomma praticamente è una frequenza di informazioni dello stato attuale delle condizioni sia dell'aeroporto che del meteo, che può essere sintonizzata e c'è una voce registrata che parte e ripete sempre la stessa cosa per dare appunto queste informazioni. Ovviamente sono divise in due frequenze, per la 16 destra e per le 16 sinistra e centrale, quindi sono due frequenze distinte ma che fanno la stessa cosa. Airport Elevation 14 piedi ovviamente si riferisce all'elevazione rispetto al livello del mare, quindi il filmino sta praticamente sul mare, quindi è abbastanza basso. Qui ci dà notifica dell'altitudine set è in ectopascal, a differenza di quella di aeroporti ad esempio americani che utilizzano i millibar, quindi comunque qui avremo un settaggio dell'altitudine del QNH in ectopascal. Il transition level by ATC perché ovviamente dipende dalle condizioni meteo attuali, la transition altitude che è fissa ha 6.000 piedi, la parte dell'MSA riguarda la minimum safe altitude, praticamente è l'altitudine minima che garantisce una separazione di almeno 1.000 piedi dall'ostacolo più alto presente in questa zona qui cerchiata, quindi in 360 gradi rispetto all'aeroporto. Quindi da 3.10 a 1.20, quindi questa fascia qui che sarebbe la fascia praticamente sul mare, l'altitudine minima è 2.000 piedi, da 1.20 a 2.20 è 3.300 piedi, quindi la parte del lago di Bracciano per capirsi, da 3.10 a 2.20 è 5.600 perché ci sono comunque anche i monti e quindi sicuramente l'altitudine è più elevata. Questa mappa ci dice che riguarda le star di avvicinamento per i punti Elcap, Giglio e Xibil, il numero è 1α, e riguarda le piste sinistra, center e destra. Sono procedure RNAV. RNAV praticamente sarebbe una procedura che consente agli aeromobili di eseguire una rotta specifica determinata in vari punti con relative altezze fino al raggiungimento del punto finale. Adesso poi nella parte grafica lo vedremo sicuramente meglio. Attualmente abbiamo quindi i punti di riferimento che sono Xibil, Elcap e Giglio. Su ogni punto viene stabilito l'ingresso, la velocità, scusate, di ingresso massima per ogni singolo arrivo. Quindi su Giglio sarà 2.50 nodi, per Elcap e Xibil 2.70 nodi. Su i punti Elcap e Giglio è prevista anche la possibilità di fare una holding, quindi l'inbound è 0.91, l'outbound è 2.71, la minimum holding altitude, quindi l'altitudine minima per effettuare questo holding è di halfway level 1.90 e ha una velocità massima di 240 nodi. prendiamo appunto questo punto Elcap che poi le cose si ripetono per ogni tipologia. Da Elcap noi vediamo che abbiamo una prua outbound da Elcap di 1.2.0, quindi da Elcap fino a B-back la prua è 1.2.0, la distanza di questi due punti è 32 miglia, fly level 1.90, si segue la Elcap 1.5 e si arriva su B-back. Da B-back stessa cosa, prua outbound 0.96, il fly level qui è 9.0, la distanza tra B-back e questo punto che è Gopal è di 15 miglia, grossomodo 14.9. Stessa cosa anche qui, su Gopal c'è la possibilità di fare un holding a minimo 6.000 piedi, a una velocità massima di 230 nodi. da qui, su Gopal viene messo anche una quota di sorvolo che è tra i fly level 1.70 e fly level 1.50, ha una velocità massima di 250 nodi. Da qui poi ovviamente parte la procedura RNAV, quindi come vedete ci sono dei punti che è appunto Gixom, Usiru e Gpub, sempre con le relative distanze, fly level, eccetera, eccetera, e la prua outbound. Da qui poi vedete dopo Gpub ci sono i punti relativi a RNAV, cioè RF 422, 423, 424 e così via, fino ad arrivare al punto finale che è Suvok. Da Suvok partirà appunto l'avvicinamento ILS, quindi Suvok si definisce come IAF, cioè Initial Approach Fix, e la velocità appunto di arrivo è 200 nodi a 4.000 piedi perché RF 428 va da RF 428 a Suvok, la quota è di 4.000 piedi. Quindi la parte appunto che ci interessa relativa alla star è questa qui, praticamente appunto si differenziano solamente i punti di ingresso per l'inizio della procedura ed eventualmente appunto le prue outbound e le distanze tra i singoli punti. Ovviamente poi impostandole sull'FMSI lui automaticamente setterà tutta la procedura di arrivo per la pista appunto che è in uso in quel momento. Ora andiamo a vedere, dopo essere arrivata a Suvok appunto sullo IAF, che cosa avviene per la parte appunto dell'avvicinamento ILS. Andiamo a vedere anche quell'altra carta. Ok, abbiamo aperto l'avvicinamento inerente alla pista 1-6 sinistra, ILS, X-Ray, ogni ILS sarà identificato con una lettera, di solito sono X-Ray, Whiskey e Zulu. Qui abbiamo sempre le informazioni relative alla frequenza dell'ATIS, le frequenze dei vari settori di ATC, quindi ROM Approach 125.5, ROM Director 122.50, la Torre, la Ground, eccetera eccetera. Qui sotto abbiamo le frequenze, la frequenza dell'ILS, quindi del lock che è 108.1, la course finale di avvicinamento che è 161, IGLI Slope 1350 piedi, la Decision Altitude, quindi è 214 piedi, la Decision Altitude, faccio un breve inciso, è semplicemente l'altitudine minima di decisione che il pilota può eventualmente effettuare un mese d'approche nel caso o non dovesse vedere la pista per motivi meteorologici o di altro tipo, oppure semplicemente perché non ha effettuato un avvicinamento magari corretto e quindi si trova a dover per forza effettuare una procedura di missed approach. L'Airport Elevation e la Langue ovviamente sono identici, quindi 14 piedi. Qui abbiamo la stessa cosa della MSA relativa al VOR di Ostia, quindi il VOR questo qui, ostia, su questo VOR qui c'è questa MSA che grossomodo è identica a quella di prima, cambia solamente la parte relativa a 310, 220 che è scesa a 5200 piedi, invece prima era 5600, e abbiamo quindi la procedura anche di missed approach spiegata in maniera testuale, quindi in caso di missed approach si sale su prua 161 per raggiungere un punto distante 6 miglia da Ostia a 2000 piedi, dopodiché girare a destra sulla prua 186 per intercettare la radiale 160 da Ostia eccetera eccetera, quindi è tutto quanto scritto in maniera testuale nel caso appunto di missed approach. Abbiamo sempre l'altitudine a settare che è in Ecto Pascal, la transition level è sempre by ATC eccetera eccetera, queste sono le stesse informazioni che ci davano anche le sulla carta della Star. Andiamo a vedere quello che ci interessa invece appunto dell'avvicinamento, qui abbiamo Suvok, come vedete c'è scritto IAF, quindi Initial Approach Fix, a 4000 piedi. Qui la parte diciamo grafica è identica a quella della Star, perché vedete abbiamo sempre una prua di outbound al punto Suvok per raggiungere Maven, prua 130, 5 miglia, 3000 piedi, quindi su Maven saremo a 3000 piedi, dopodiché si arriva sul punto Oxeru, da Oxeru si intercetta, si può intercettare Lock e Gly Slope, quindi questo cono riguarda appunto la parte relativa all'avvicinamento ILS, quindi impostando la frequenza alla corsa abbiamo la possibilità di intercettare Lock e Gly Slope. Questa parte qui è quella che riguarda fondamentalmente il cono di avvicinamento della pista 1.6 sinistra, ci spiega semplicemente che su Oxeru si intercetta l'ILS a 2500 piedi su prua 1.6-1, qui ci dà la distanza relativa al VOR di Ostia e al Touch, quindi 7.8 mila al Touch e 10 mila da Ostia, qui abbiamo i vari coni del Louder Marker e del Middle Marker e le varie distanze con le le distanze e la quota relativa al Gly Slope, quindi praticamente ci dà tutte le informazioni su come dovrebbe avvenire l'avvicinamento. Questa parte qui invece riguarda semplicemente il tipo di discesa che viene effettuata a seconda della Ground Speed, quindi come sapete la Ground Speed e l'indicata a quote basse coincidono perché non c'è più l'effetto del vento, quindi praticamente ci dice semplicemente che con una Ground Speed di 90 nodi, un angolo di discesa di 3 gradi, scendiamo di 478 piedi e si continua a scendere fino appunto all'arrivo sul Touchdown della pista. Ci dà la possibilità anche di vedere che tipologia di Papi Lights dispone la pista, quindi abbiamo questa specie di alberello di Natale più le lucine messe a destra e a sinistra del cono di avvicinamento. Questa parte qui riguarda appunto le distanze, la prua e la quota per l'avvicinamento. Questa parte qui non ci interessa perché è relativa più che altro alla parte appunto dell'RVR, quindi non andremo a vedere perché tanto così come quella del Circle to Land sono procedure che sul simulatore non vengono fatte praticamente mai. Ultima cosa appunto ci ripete semplicemente che questo ILS ha una decision altitude di 214 piedi, quindi qui praticamente se l'abbiamo impostata sul nostro aereo chiamerà il call out minimal, quindi per notificarvi appunto che abbiamo raggiunto la quota di decisione minima e quindi poi alla fine appunto si può decidere nel caso di procedere o no con l'avvicinamento. Bene, mi pare di avervi detto tutto, se avete come al solito domande o volete dichiarimenti su qualcosa che non ho spiegato, che magari mi sono perso, potete sempre scrivermelo nei commenti. Noi ci rivediamo al prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!